La compagnia teatrale Enarchè, in sette date nel mese di gennaio, ha portato in scena con successo al Teatro Reggio di Capitanata N'Uquadra Antique per la diciottesima stagione teatrale. Lo spettacolo in dialetto foggiano in due atti ha testo e regia curati da Fabrizio Enrico. Il cast di attori è composto dallo stesso Fabrizio Enrico, Giovanni Mancini, Michele Norillo, Maristella Mazza, Simona Ianigro, Roberta Mancini, Consigli Albanese e Giosi Rosiello. L'opera è la rappresentazione storiografica di Foggia attraverso il ritrovamento del Sacro Tavolo della Madonna dei Sette Veli, che ha dato origine all'identità religiosa e culturale foggiana. Momenti esilaranti, ma anche dal senso profondamente religioso, caratterizzano il racconto, che diverte e nello stesso tempo affascina con la danza e il canto, riportando alla luce la storia e le radici del popolo foggiano, che rimandano alla devozione alla Madonna dei Sette Veli.